Eureka è la nuova fibra tecnologica progettata e realizzata per il futuro, che cambierà radicalmente il concetto di sofà. Una innovativa combinazione di sistemi antimacchia, idrorepellenza e raffinatezza del tessuto, che risulta soffice e piacevole al tatto. Ciò che rende Eureka un prodotto unico nel suo genere, riguarda il suo processo di produzione e nobilitazione. Tutte le molecole che compongono le fibre del tessuto Eureka, infatti, vivono indipendentemente l'una dall'altra. Questo significa che qualsiasi macchia o altro danno provocato al tessuto è limitato unicamente alla singola molecola, senza pericolo di intaccare quelle vicine. Eureka, inoltre, è semplicissimo da pulire. Agendo tempestivamente sulla macchia, è possibile rimuoverla completamente senza lasciare aloni. Sarà sufficiente assorbire il liquido in superficie con un lembo di carta assorbente e tamponare delicatamente per rimuovere ogni residuo. Se si tratta invece di macchie dovute a pennebiro e colori, basterà versare sul tessuto dell'alcol etilico denaturato e strofinare energicamente con un panno fino ad eliminare qualsiasi alone. Il trattamento antimacchia è permanente. Eureka può essere lavato in lavatrice a 30 gradi e stirato mantenendo sempre intatte le proprie qualità. Vino, caffè, aranciata, olio... Eureka non ha paura di niente. Pensato per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Elegante, prezioso e resistente. Disponibile in una vasta gamma di colori. Eureka è la novità del tuo futuro.